Noi non capiamo la risposta, nel senso che ci ha messo sette minuti per farmi un riassunto della normativa vigente di quanto ha fatto la giunta fino ad oggi. Che a noi va bene, non stiamo contestando l'attività della giunta, sia chiaro. Quello che noi stiamo contestando alla giunta è che la giunta non applichi la mozione 811. Il consiglio regionale non è la bocciofila, questo non è un suggerimento. La mozione 811 impegna la giunta a fare le linee guida. Le avete fatte le linee guida o no? No. Avete fatto una circolare? Va bene. Per la carità, va bene. Io non riesco a capire, noi non riusciamo a capire se non avete rispetto del consiglio regionale, se non avete voglia di fare le linee guida o se non siete in grado di fare le linee guida. Perché non capiamo il motivo. Cioè delle tre è una. Auspichiamo che la giunta faccia le linee guida. Questo stiamo chiedendo. Cioè che applichi la mozione 811. Grazie.